Il confine orientale italiano è italiano in senso stretto e che tutte le attività che sono state portate a termine in chiave politica, diplomatica, militare alla fine della seconda guerra mondiale devono essere soggetti a una riflessione molto seria, molto approfondita perché hanno causato una sorta di deportazione di massa della popolazione italiana, dell'Istria, della Dalmazia, di quelle parti del mondo che sono state per lungo tempo romane, veneziane, italiane. Per fare questo facciamo un giro nella nostra mostra con alcune attenzioni iniziali. La prima è questa, il giorno del ricordo 10 febbraio è stato istituito dal Presidente Ciampi, il predecessore dell'On. Giorgio Napolitano, l'attuale Presidente della Repubblica. In questa giornata, 10 febbraio non è casuale, si riferisce a un trattato di pace in cui l'Italia cede territori alla Jugoslavia. Questo giorno è diventato il giorno simbolo di un esodo, di una fuga. Tanta gente ha dovuto lasciare la sua casa, i suoi affetti, la vita di fronte all'avanzata molto forte dello Stato jugoslavo. La prima parte di questa mostra va osservata con il cervello e con la profondità della riflessione storica. La seconda parte della mostra va affrontata con il cuore e con una riflessione molto profonda sugli esuli, sui profughi, sulle questioni che vengono a colpire le genti semplici, le questioni politiche alte che vengono a colpire le genti semplici. La storia è spesso fatta in questa maniera e naturalmente la storia, la grande politica più che la storia, sembra non occuparsi delle persone normali, della gente come noi. Il caso dell'esodo degli italiani dalle zone dell'Istria e della Dalmazia è un caso emblematico, è un caso anche molto controverso. Adesso andremo a vedere perché facendo una piccola disamina storica. Nelle prime slide vedete la presenza romana in quella zona del mondo. Nella prima, osservate l'Italia al tempo dell'imperatore Augusto, il mare adriatico è nettamente considerato una specie di lago dell'Italia, poiché gli insediamenti romani ci sono in Aquileia, ci sono in Trieste che trovate segnata, ci sono nelle isole del Quarnaro, imparate qualcosa, anche perché oggi se andrete al mare in queste zone non troverete una definizione italiana, neanche una. Io sono stato spesso, perché tra l'altro il mare è molto bello e anche l'accoglienza in fondo non è negativa, ma è praticamente condannata all'abolizione della memoria della lingua italiana. Invece, come testimonia questa slide sull'antichità romana, questa è una zona che i romani hanno lavorato con grande attenzione, proprio con vera attenzione. Vi faccio due o tre esempi. Intorno al 66 a.C. Pompeo, il grande avversario di Cesare, fu investito della responsabilità di controllare i pirati che infestavano l'adriatico, quindi vuol dire che loro avevano un interesse molto forte sul mare adriatico. Più avanti abbiamo avuto insediamenti importantissimi, nella seconda slide lo vedete con grande tranquillità, a cosa somiglia? Somiglia inequivocabilmente l'Arena di Pola, che oggi i croati chiamano Pula, assomiglia inequivocabilmente al Colosseo, anzi, quando arrivate sul piazzale prospiciente con la macchina vi sembra veramente di arrivare dalla via dei fami imperiali. Tutta la visione dell'Arena di Pola è esattamente simile a quella del Colosseo. Nella terza slide trovate l'imperatore ilirico più famoso, questo è un imperatore romano, famosissimo, nato a Salona o Solona a seconda delle osservazioni. Oggi questa città si chiama in croato Split e noi la chiamiamo Spalato. È una bella città di mare, di fronte a Bari come immagine geografica. È stato tra l'altro ripristinato meravigliosamente dagli archeologi il palazzo di Diocleziano che lì può essere visto in un giro molto lungo. Naturalmente i croati sostengono che quella zona sia slava per definizione, ma si fanno pagare, scusate la piccola polemica, grandi cifre per visitare i luoghi romani che sostengono essere una delle bellezze rilevanti di questo paese. Cominciate a mettere a fuoco tutte le piccole contraddizioni che piano piano vengono fuori. Perché, ripeto, la tesi della nostra mostra è dimostrare l'italianità accettabile, accettata e condivisa di quelle zone. La tesi di chi contesta il giorno del ricordo è italiani usurpatori in tempo fascista e questo è un argomento sul quale c'è bisogno di una grande lucidità e di una grande riflessione interiore. Spiace a dire, la verità è difficile da stabilire in storia, l'avete studiato per 4 e per 5 anni, la verità è tanto difficile da stabilire. Allora c'è bisogno di utilizzare le nostre capacità di riflessione e di approfondimento di costanza nello studio. Andrei oltre, caduto l'impero romano, noi troviamo tutta una serie di novità legate agli spostamenti dei barbari, l'avete studiato in seconda tutti quanti, spostamenti dei barbari sfondano sempre da est verso ovest, una zona di passaggio molto significativa è proprio il nord est dell'Italia, Attila passa da lì, i grandi longobardi al comando del loro re passano da lì, la grande rottura della penisola italiana che è la rottura longobarda viene fatta da gente che arriva da quella zona del mondo, quindi dall'est dell'Europa sfonda verso le bellezze della penisola italiana. In realtà tutta questa parte viene poi razionalizzata dall'impero di Carlo Magno, non voglio tornare perché questa è naturalmente una parte che conoscete e non è in questo momento rilevantissimo, sappiamo comunque che nella zona si va ad affermare il potere, lo stile di governo e la capacità relazionale della Repubblica di Venezia, infatti questo che vi faccio vedere qui in questa slide è un leone di San Marco che voi trovate nella porta principale di Zara, questa città è una città che si trova a metà dell'Adriatico, quindi più a nord di Salona, cioè Spalato, quasi di fronte ad Ancona, forse un po' più a nord ancora, è una città importante perché è ricchissima di vestigia veneziane ed è particolarmente amata dai veneziani, vi ricordo è l'ultima sottigliezza nozionistica, poi magari la vostra propria mi corregge perché io non sono bravo sulle date, che Zara è stata conquistata dai veneziani nel 1204 quando avevano promesso al Papa di andare a fare una crociata, poi loro amavano molto gli schei, vedete cosa sono gli schei? I soldi e immaginavano che la crociata potesse diventare anche un tornacontinuo economico significativo e allora nel dubbio prima di fare altre questioni per la cristianità hanno detto mettiamoci in banca i nostri vantaggi, i nostri vantaggi, i veneziani in questo sono sempre stati maestri anche un po' stucchevoli perché nella stessa circostanza la prima volta che cade Costantinopoli in realtà la fanno cadere sostanzialmente i veneziani, non i turchi, non i musulmani, non i cattivi come si diceva allora, quindi un minimo di giudizio sull'aggressività dei nostri veneziani si potrebbe anche fare, certo per la nostra tesi Venezia vuol dire tanta tradizione italiana e posso dirvi con tranquillità che Venezia controlla quella zona del mondo sino in fondo al mare Adriatico nel lato orientale fino all'inizio dell'Ottocento in età napoleonica, Venezia perde la sua dimensione autonoma con un trattato famoso, quelli di Quinta dovrebbero anche saperlo perché attraversa tutta l'opera, l'ansia, la fatica, il dramma, tutto quello che volete di Ugo Foscolo che aveva riposto in Napoleone delle speranze di libertà eccetera eccetera eccetera, Venezia perde la sua dimensione nel 1797 in un famoso trattato, passa all'Austria-Ungheria e entra questa zona del mondo nel grande mare magnum dell'impero austro-ungarico. L'impero austro-ungarico come voi sapete è una grande aggregazione sovranazionale, cioè c'è un centro imperiale e poi ci sono tanti piccoli stati, gli stati dei grandi elettori ma ci sono soprattutto tanti popoli, per esempio tutta questa zona del mondo che ha dentro sloveni, croati, italiani, bosniaci, montenegrini, bulgari, romeni per un pezzo, tutta questa zona del mondo va sotto il grande cappello dell'impero austro-ungarico. Fino alla prima guerra mondiale la cosa sembra impossibile da rivedere, anche se avete visto qualche film della principessa Sissi, quando lei va a questa grande festa dagli ungheresi con l'abito ungherese e il copricapo della ragazza ungherese, ricordate la scena? All'inizio tutti dicono sarà sicuramente un fiasco, invece lei poi dimostra proprio con questo abito di saper condividere usanze, tradizioni, è un'epoca molto complicata questa, perché un popolo si sente padrone delle sue stesse tradizioni e la politica miope non lascia possibilità, nascono i cosiddetti nazionalismi, lei stessa non era viennese, la principessa Sissi veniva dalla bassa Baviera, per cui era stata anche accolta a Vienna con un po' di repulsione, con un pochino di repulsione, un pochino di sospetto, di imbarazzo. È chiaro che in questo contesto qui, uno Stato costruito in quella maniera è uno Stato che rischia tantissimo. Naturalmente noi arriviamo alla prima guerra mondiale, la prima guerra mondiale è il momento in cui contro ogni previsione tutto quel mondo lì si dissolve, tutto, perché voi di quarta non l'avete fatto, ma voi credo l'abbiate fatto, nello spazio di pochi anni si dissolvono i grandi imperi sovranazionali che abbiamo studiato per tanti e tante settimane a scuola. L'impero austro-ungarico diventa un'Austria, un'Austria poco, forse non è più grande della Lombardia, non ho idea, diciamo poco più grande della Lombardia, mi scuso con chi sente nel caso sia una fesseria. Abbiamo tante piccole entità nazionali che cercano di affermarsi, crolla l'impero russo perché sapete che laggiù succede una rivoluzione e crolla l'impero turco che aveva avuto, o ottomano, che aveva avuto tanta parte dell'organizzazione dell'Europa orientale e meridionale. A questo punto i popoli cominciano a sentire il peso, il valore, il desiderio di essere se stessi. Cosa nasce lì al 1918? Nasce uno stato completamente nuovo. Questo stato completamente nuovo si chiama Federazione degli Slavi del Sud. Non faccio nessuna polemica su questa faccenda, comunque Jugoslavia vuol dire Federazione degli Slavi del Sud. Voi sapete benissimo che il modello dello slavo del nord è il russo. Ancora oggi, avete sentito l'altro giorno, purtroppo è stata una notizia oscurata dal fatto epocale che è successo lunedì, perché lunedì è successo un fatto epocale. Il Santo Padre ha deciso di dimettersi. Ma l'altro giorno c'è stata un'altra notiziola. Il Presidente russo Putin è andato a Volkograd, che è una città che 70 anni fa si chiamava Stalingrado e ha fatto un elogio del cuore russo perché a Stalingrado i russi soffrendo il freddo, la fame e senza alcuno sprezzo del pericolo hanno chiuso i tedeschi di Hitler. Per cui il russo del nord è lo slavo per definizione. I russi del sud sono tutti, gli slavi del sud vi chiedo scusa, sono tutte queste caratteristiche che ci impegnano. Da questo punto di vista, la fine della prima guerra mondiale ci crea qualche difficoltà. Faccio un link per gli amici di Quinta, mi chiedo scusa a quelli di Quarta se in questo momento faccio proprio un riferimento a una nozione. La nozione rilevante è questa qui. L'Italia apparteneva alla triplice alleanza e purtroppo senza avvisare il Parlamento, o per fortuna, questo è un argomento che vedremo nelle celebrazioni per il centenario, perché fra due anni noi abbiamo il centenario del Piave e mi auguro che l'Italia sappia non solo valorizzare la sua Expo, ma anche il centenario del Piave, il primo ministro e il ministro degli esteri se ne vanno di nascosto a Londra senza avvisare il Parlamento e laggiù trattano dicendo ma senti un po' il governo inglese, se io cambiassi schieramento, e loro dicono ah se cambi schieramento completerai il tuo risorgimento con le zone irredente, vi ricordate questo aggettivo, con le zone irredente e dopo aver completato il risorgimento noi ti diamo anche, sembra di stare al mercato ragazzi non è gradevole ma la diplomazia questo è, qualche volta, qualche volta, ti diamo anche l'Istria, il nostro triangolo di terra laggiù, le isole della Dalmazia molto belle dal Golfo del Quarnaro, la città di Zara che figurati è italiana, c'è il Leone di San Marco da 800 anni, ti diamo anche il porto albanese di Valona, se lo guardate nella carta geografica è molto meridionale rispetto a questa zona, più ti regaleremo anche qualche possedimento africano perché insomma siamo nell'epoca delle delle situazioni, allora i nostri due rappresentanti che ripeto hanno fatto questa cosa di nascosto senza avvisare il Parlamento, i nostri due rappresentanti decidono che l'Italia cambierà fronte, cambierà fronte e andrà con la triplice intesa, finito la nozione della quinta, in questo contesto succede che insomma alla fine gli italiani si occupano del cosiddetto fronte meridionale, meridionale, meridionale per modo di dire, perché il fronte meridionale occupa uno spazio di terra che va dal fiume Piave, dopo lo vedrete lì, al fiume Isonzo, è fondamentale che guardiamo questa parte del mondo perché sarà l'oggetto dei nostri terribili argomenti, risultato alla fine della guerra mondiale nessuno può mantenere le promesse con l'Italia e in Italia si scatena una polemica feroce sulle scelte del governo, c'è un personaggio che fa tutte le sue elaborazioni su questo, lui dice siamo stati mutilati della nostra vittoria, ci hanno fatto morire le trincee e non ci danno quello che ci spetta, vado a prendermelo da me. Gabriele D'Annunzio, poeta, soldato, uomo di cultura, intellettuale eccetera eccetera eccetera, fa questa missione e occupa una città simbolo, la città che vedete laggiù, si chiama fiume questa città e questa città che oggi i croati chiamano Rieca, dopo vi racconterò qualcosa su questo, chiamano Rieca, lui la occupa, grandi polemiche, grandi tensioni, ma purtroppo siamo nella condizione di dire che D'Annunzio sta facendo un atto che tutti, tutti considerano sconveniente. Vorrei che vi fosse chiaro, in realtà se posso dire, non parlo quasi mai bene di D'Annunzio come insegnante, se posso dire, egli incarnava perfettamente una parte dell'opinione pubblica che aveva detto io non sono andato a farmi massacrare sull'altopiano di Asiago, nelle trincee di Caporetto, a Gorizia, nell'Istria, non sono andato a farmi massacrare per nulla. Mi avete detto che il risorgimento italiano sarebbe stato compiuto da questa guerra? Mi dici perché ora non è più vero? Non è più vero perché tutto il sistema imperialista adesso deve fare i conti con i popoli, per la prima volta nella storia dell'umanità deve fare i conti con i popoli. Vedete, alla fine dell'impero romano non accadde questo, per tanti motivi mancava il concetto di Stato, specialmente nei barbari, e la dissoluzione di certi imperi ha creato tante novità che non siamo stati capaci di capire molto bene. Risultato? D'Annunzio fallisce, lo fanno ritornare e finalmente fanno un trattato. In questa slide vedete, questa è Italia, vi faccio vedere il fiume Isonzo per chiarezza, quando vi avvicinerete lo vedrete, se il fiume Isonzo fosse il confine degli Slavi del Sud, Jugoslavi, l'Istria sarebbe tutta tutta quanta in Jugoslavia, ma Trieste sarebbe in Jugoslavia, Gorizia sarebbe in Jugoslavia, Caporetto sarebbe in Jugoslavia, fino su a Tarvisio tutto sarebbe da un'altra parte. Questo è un aspetto problematico di questa situazione. Naturalmente a complicare di più questa situazione arriva il fascismo. Qui devo dire con grande tranquillità che il fascismo compie una serie di errori sistematici. Uno di questi, grossolano, è l'italianizzazione forzata di questi posti. Esattamente come hanno fatto con noi dopo. esattamente come hanno fatto con noi dopo. Hanno cominciato a dire, che lingua parli tu? Croato? Parli il croato? Sì. Vietato. Vietato. Parli il rosoveno? Vietato. Io ho anche la mamma un po' serba. Posso parlare un po' di serbo a scuola? No. Per capirvi cosa vuol dire diventare cittadini d'Europa e del mondo, vi faccio un ragionamento. Voi, i ragazzi che fanno la scuola come voi a Gorizia, hanno diritto di scegliere cosa frequentare e di fare l'elaborato in lingua slovena. Non hanno bisogno della professoressa Stefanoli o del prof. Valsecchi, perché avranno il professor Volcic, che fa l'elaborato in lingua slovena. Questa è libertà, questa è autodeterminazione. Ci siamo arrivati con tantissima fatica. Quindi vorrei che fosse chiaro. Noi, noi italiani, il fascismo ha impostato una nazionalizzazione forzata di tutto. Le grandi parole del calcio, vi faccio un esempio, dice facciamo una banalità. La diciamo subito una banalità. Il calcio era stato licenziato con tutte regole in lingua inglese. Tutte regole in lingua inglese. In epoca fascista abbiamo inventato mediano, centromediano, centravanti, fuori giuoco. Perché? Perché era rigorosamente vietato parlare di cose in lingua straniera. Abbiamo inventato anche ritirata, toeletta, latrina. No, per la verità, latrina viene dal mondo romano. Accettiamolo. Però toeletta mi fa soltanto ridere. Mi fa soltanto ridere. Qui non accade solo questo. Non accade solo questo. La fascistizzazione forzata, che è il pretesto che fu usato per cacciare gli italiani da questa zona del mondo, la fascistizzazione forzata portava a dei paradossi incredibili. Avevamo difficoltà, le prime macchine avevano una targa, avevamo delle difficoltà a sancire la targa di Trieste e di Gorizia, ma il fascismo aveva decretato che ci voleva una targa assoluta di Ljubljana. Oggi Ljubljana è la capitale della Slovenia. Per cui siamo un po' al paradosso. E infatti ferve un sentimento anti-italiano sotterraneo in questa fase. E vi ricordo che i rancori sotterranei, quando esplodono, diventano violentissimi. Questo però, sempre sulla nostra tesi, non giustifica ciò che accadde qualche tempo dopo. Finalmente arriva la seconda guerra mondiale e la seconda guerra mondiale è una guerra di offesa da parte del nazifascismo. O in vero Mussolini non sembrava particolarmente desideroso di andare in Jugoslavia. Aveva un compito preciso datogli da Hitler, che era quello di occuparsi della Grecia. In realtà ci si accorge molto presto che il regno jugoslavo, che voleva stare neutrale, questo regno jugoslavo in realtà potrebbe creare qualche difficoltà. Allora nel 1941 Hitler decide che si va in Jugoslavia. Si va in Jugoslavia, occupazione totale, e in questa occupazione totale inizia tutta una repressione canonica del nazismo. Campi di lavoro, campi di sterminio, deportazione, quello che avete più e più volte sentito e studiato. Gli italiani, naturalmente come alleati dei nazisti, stanno in questa condizione di popolo che occupa. La lupa di Roma viene considerata, che tra l'altro è il simbolo di una di queste città, la città di Pola, che i croati chiamano Pula. La vedremo di là, poi bellissima. La città di Roma, la lupa di Roma a Pola viene considerata il simbolo dell'invasore. Come spesso accade contro il nazismo, come avete visto in tutta la storia, l'avete già fatto in altri tempi, ogni paese in cui il nazismo è arrivato con grande violenza ha sviluppato una resistenza. Una resistenza di partigiani che vogliono abbattere il colosso nazista. In Jugoslavia i partigiani sono soggetti al comando di un uomo di carisma eccezionale, il marescialo Tito, il quale inizia un percorso molto importante di resistenza all'elemento nazista invasore. L'Italia si chiama fuori dalla guerra nel 1943 e cosa vuol dire chiamarsi fuori? Vuol dire che stipula un armistizio contro gli avversari inglesi, americani e tutto il resto delle armate che sono contro il nazismo. In questo armistizio devo dire che dalla caduta di Mussolini 25 luglio 1943 all'armistizio passano, 8 settembre 1943, passano un po' di giorni, troppi giorni. In realtà le diplomazie internazionali stanno discutendo se l'Italia non possa addirittura cambiare fronte, quindi da alleato della Germania diventare repentinamente alleato di inglesi e americani. In realtà questo non può succedere, i comandi anglo-americani non accettano, l'Italia viene spaccata sostanzialmente in due, la parte meridionale resta in mano a una specie di Italia del Sud e la parte setenzionale purtroppo resta in mano alla Repubblica Sociale Italiana di sede a Salò sul lago di Garda e nominalmente controllata da Mussolini, ma in realtà governata dai tedeschi. Nel frattempo in quella zona del mondo il maresciallo Tito dice continuiamo a spingersi verso ovest. Voglio cacciare i nazisti, voglio cacciare i nazisti, voglio cacciare i nazisti dai territori slavi, ma questo slogan nasconde sotto sotto anche la seconda parte inconfessabile. Voglio cacciare gli italiani. Inconfessabile. In realtà Tito aveva una filosofia tipicamente sovietica, in questo caso, quindi un po' legata al modello della rivoluzione. Dove arrivo occupo è mio. Scusate, in italiano corrente dove arrivo occupo è mio è un po' come si dice senza virgole, senza punti, senza congiunzioni, ma vuole dare il senso dello slogan. Per cui le truppe titine avanzano con tutta la forza con il sogno di portare il confine degli slavi del sud a Lisonzo. Quindi arrivano a Trieste, arrivano a Gorizia, arrivano e gli italiani lì? Gli italiani lì cominciano a capire che tira una pessima aria. Infatti alla fine della guerra l'Italia sconfitta, nonostante tutto quello che andiamo raccontando. Io, cari ragazzi, sono stato cresciuto e ne sono orgoglioso, a pane e bella ciao, bella ciao era la canzone dei partigiani. Tuttavia, tuttavia, c'è un problema storico molto serio. L'Italia, la seconda guerra mondiale, l'ha conclusa da sconfitta, nonostante la luminosa presenza dell'elemento partigiano. Deve essere chiara questa cosa qui. E allora non potevamo, non siamo riusciti, vi ricordate, non siamo riusciti a ottenere ciò che ci avevano promesso in una guerra vinta, figurarsi se saremmo stati in grado di ottenere qualcosa in una guerra perduta, straperduta. Un popolo sconfitto deve purtroppo accettare. La Germania alla fine degli anni venti subì delle cose inenarrabili. Il popolo sconfitto subisce e così andò anche a noi. Infatti, il confine orientale, che vedrete in questa slide, viene risistemato. Ma noi ci accorgiamo quasi subito che l'Istria è perduta. Un pezzo della cosiddetta provincia di Trieste è perduto. Per essere chiari, il corso dell'Isonzo per due terzi passa alla Jugoslavia. E noi viviamo in una fase molto complicata. La fase molto complicata è gestita dal nuovo regime del maresciallo Tito. La Jugoslavia, infatti, liberata dal nazifascismo, diventa una repubblica sul modello sovietico comunista. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale inizia pertanto un percorso piuttosto complesso ed arriviamo a queste nostre situazioni. Un'ultima precisazione storica. L'esodo degli italiani, che chiamiamo giuliani, che chiamiamo istriani, che chiamiamo dalmati, da questa zona del mondo, è stato causato da una forte, forte ipoteca panna slava, adesso cerco di spiegarvi, che il maresciallo Tito ha messo davanti a tutte le questioni. Cioè ha fatto né più né meno quello che era stato fatto dal fascismo. Questo va detto a onor del vero. Prima avevamo detto che quella zona doveva essere italiana, vietato parlare italiano. Adesso lui, chiedo scusa, sloveno, croato, serbo, adesso lui dice vietato parlare, vivere, studiare, approfondire italiano. E inizia un percorso violentissimo. Durante la guerra un percorso duro, molto duro, ma quasi limitato. Subito dopo la guerra un percorso che ha portato tanta morte, tanto lutto e tanta perdita di legami, di radici, di situazioni. Cos'è una foiba? La vedete qui. La foiba è una caverna carsica. È una di quelle cose fatte a imbuto rovesciato. Nella foiba noi abbiamo un ingresso piuttosto stretto, un cunicolo di discesa e poi un'apertura sotterranea. Il carso è pieno di fiumi che scorrono sottoterra e lì ci sono tante situazioni di questo genere. Le foibe sono tristemente famose perché servono anche per eliminare cadaveri, servono anche per fare una specie di fossa comune nella quale sia molto difficile riconoscere qualcuno che vi sia gettato. In foiba si buttavano generalmente gli avversari del regime, i nemici politici, le vendette trasversali. Tecnicamente si buttavano in foiba nudi perché il clima all'interno della foiba avrebbe rapidamente corrotto i corpi e ci sarebbe stata praticamente nessuna possibilità di riconoscere. Chi erano i bersagli del regime? I bersagli del regime erano tutta quella parte di apparato che in qualche modo faceva riconoscere l'italianità di quella zona. Per cui un direttore di scuola elementare di lingua italiana poteva essere un bersaglio, un ufficiale giudiziario, un signore che lavorava alle poste, un commissario di polizia, un vigile urbano, tutti quelli che avevano un vago sentore di coinvolgimento con le foibe, con l'Italia, rischiava di essere sottoposto a processo politico. L'ingegnere Savatteri che è venuto domenica alla celebrazione della giornata del ricordo ci ha fatto vedere una lettera del suo nonno che era tra l'altro direttore di scuola, quindi non direi preso nella politica in modo inequivocabile e portato via, sottoposto a processo. Non si è più trovato il nonno dell'ingegnere, non si è più trovato. Qualche anno fa un comitato di studi italo-sloveno-croato ha cominciato a mettere a fuoco qualche identità. Questo signore fu processato in modo molto sommario da un tribunale speciale e sapete cosa c'è scritto sotto la sentenza? È cocciuto, virgola, da fucilare. Quindi l'ingegnere Savatteri si è anche un po' come dire sollevato perché non l'hanno buttato in foiba vivo, l'hanno buttato in foiba morto, che era un piccolo privilegio, un piccolo privilegio. Posso dire con grande onestà intellettuale che abbiamo visto qualche spezzone di film in cui si dice che qualcuno ce l'è anche cavata in foiba perché spesso venivano buttati giù e avevano il materasso di tutti i loro compagni già buttati di sotto. Quindi qualcuno ha salvato la vita a qualche altro facendo il materasso. Ricordatevi, cocciuto, cocciuto è un aggettivo che non merita forse qualche punizione. I vostri genitori quando avete qualche cocciutaggine al massimo evitò con un permesso di andare a ballare domani che è il sabato grasso o stasera, stasera che è San Valentino. Ma cocciutaggine, la cocciutaggine è anche un elemento del carattere che può essere gestita molto, molto fruttuosamente. Determinazione, coraggio, voglia di fare è cocciuto, da fucilare. Ultima domanda storica, ma perché gliel'hanno fatto fare alla Jugoslavia? Nessuno, nessuno ha detto una parola su questo. Allora, la risposta è storica e come vi ho detto là in fondo, tocca alle nostre coscienze riflettere su questo. Il marescialo Tito nel 1948 ha abbandonato l'alleanza con la Unione Sovietica. Per quelli di Quinta che forse sanno cos'è il Comintern, tutti i partiti comunisti dell'Europa stavano in un organismo che prendeva ordine direttiva e organizzazione dall'Unione Sovietica, cioè da Mosca. Beh, Tito non ci sta perché vi ho detto che è un carismatico, ve l'ho detto prima, non stiamo parlando di un quacquara qua, non stiamo parlando di un quacquara qua, come diceva quel famoso autore. Tito è un carismatico, lascia l'accordo con l'Unione Sovietica e in questa maniera tutti in Occidente all'epoca della Guerra Fredda lo guardano con rispetto, con grande rispetto. Anzi, la Jugoslavia si accredita come il vero cuscinetto fra Est e Ovest. Vi dirò di più, è il marescialo Tito che fonda un'organizzazione di paesi che all'epoca della Guerra Fredda si chiamano non allineati, cioè paesi che non stanno né dalla parte dell'Unione Sovietica né dalla parte degli Stati Uniti, i due grandi colossi nucleari del mondo contemporaneo, il mondo per esempio della mia giovinezza, il mondo della mia giovinezza. Voi siete tutti degli anni 90 e quindi avete visto il crollo dei bipolarismo, il crollo del muro di Berlino, eccetera. Gli italiani quindi, i poveri italiani che abitano laggiù, sono soggetti alla eliminazione e alla pulizia etnica. E qui entra il cuore negli ultimi dieci minuti. Un po' di storia l'abbiamo fatta, se c'è qualche domanda poi la potete fare. Qui entra il cuore, in modo estremamente significativo. Io da ragazzo stavo in un bel cortile, Milano è una città molto più bella di quanto non fosse oggi. Anche se tanti di noi avevano il bagno sulla ringhiera, si stava tanto bene. Nel nostro cortile c'era una signora che detestava che noi giocassimo a pallone. I maschi erano un numero esagerato, oggi siamo pieni di bambini, vero Lorenzo? I maschi, anche io in casa mia voglio dire, come padre di famiglia, i maschi erano un numero esagerato e vivevamo nel mito di Mazzola, di Rivera, di Bercellino, di Castano, di Del Sol, giocatori che vedevamo soltanto nelle figurine panini. Questa signora ci detestava come giocatori di pallone, spaccavamo tutto, eravamo veramente. Poi usciva dalla finestra furiosa e diceva, siete odiosi, siete cattivi, brutti muli. Mia mamma si offendeva a morte, mia mamma si offendeva a morte e diceva, perché chiama muli i bambini quella signora? In realtà mia mamma nella sua semplicità, che vorrei chiamare ignoranza, non sapeva che mulo in triestino vuol dire ragazzino e in fondo lei ci elogiava, diceva mi date fastidio bambinacci, ragazzacci, un po' come Agnese quando alla fine dei promessi sbaciucca la nuova nipote o i nuovi figli di Renzo, chiamandoli ragazzacci. In realtà questa signora veniva da lì, veniva da lì e debbo dire che la sola volta in cui ho avuto delle difficoltà enormi con mio papà fu quella volta lì, perché? Io ero piccoletto e mia mamma furiosa perché eravamo chiamati muli e mio papà liquida la questione con due battute che a distanza di 40 anni, mio papà sta in paradiso da 36 anni, a distanza di tanto tempo, me lo ricordo come se fosse oggi, mio papà liquidò la questione dicendo lascia perdere quella gente lì, sono profughi, non sono profughi, è il mio cortile, lasciali perdere, lasciali perdere. C'era in tutta la gente una specie di sostratto, di asti o di livore, di voglia di cancellare la memoria e infatti, e infatti, e infatti, poi crescendo ho provato a studiare questa parte e ho capito che mio papà era un po' preso da una filosofia politica, secondo la quale tutti quelli che erano scappati da lì per salvare le loro piccole cose erano scappati dal paradiso comunista. Perché erano scappati dal paradiso comunista se qua si stava male, non c'era lavoro, non c'era possibilità di crescere, l'Italia era rovinata? Perché erano scappati? In realtà qua da noi avevano accreditato brutalmente l'idea che era giusto che questi fossero cacciati via, perché noi avevamo occupato i loro posti e noi abbiamo visto che non è vero e noi abbiamo visto che non è vero. Risultato, questa gente scappa. Allora, gli italiani sono stati colpiti duramente, qualcuno è stato anche trucidato con violenza. Vi faccio vedere tre situazioni esemplari, tre tremende e una carica di speranza. Le tre tremende sono queste. Un eroe della Prima Guerra Mondiale, senatore del Regno, trucidato nel maggio del 1945 a Fiume, il senatore Gigante era un eroe della Prima Guerra Mondiale. Fu preso e buttato in foiba tranquillissimamente. Norma Cossetto è la più famosa martire delle foibe. Fu presa insieme al papà che aveva un incarico pubblico modesto, era stato podestà per la verità e quindi siccome era stato podestà, il podestà era il sindaco del fascismo per intenderci, c'era qualche compromissione. Era stato podestà, furono presi e il papà fu rapidamente eliminato. Lei, dopo aver subito ogni forma di violenza, fu infoibata viva. Commisero un errore clamoroso perché fu buttata in foiba con un golfino tirolese che il suo papà gli aveva regalato per Natale. Ed è il motivo per il quale, quando entrarono in foiba, fu rapidamente riconosciuta. Era una studentessa universitaria, stava per laurearsi all'Università di Padova e il professor Concetto Marchesi, il più grande latinista del XX secolo, comunista, vorrei che vi fosse chiaro, comunista, ma comunista non vuol dire soltanto titino, vuol dire anche pensieroso, capace di approfondire, eccetera. Il professor Concetto Marchesi, latinista e comunista, la laureò ad honorem post mortem, come si dice, dopo la morte, per ricordare il suo sacrificio. La storia di Norma Cossetto è stata conclusa meravigliosamente dall'onorevole Giorgio Napolitano, il nostro presidente, il quale ha attribuito la medaglia d'oro al valore civile abbastanza recentemente. Il quarto invece è la zona di Zara, vi ho detto che Zara è sul mare, la foibe non ce n'è, la foibe non ce n'è, ma c'è, scusate il sorriso anche un po' nervoso, una tecnica che usavano molto tranquillamente, li prendevano al porto di Zara, li legavano con qualcosa al collo e li portavano tranquillissimamente nel mare. La terza slide è molto importante perché è il primo studio condiviso su questo fenomeno, Italo-Yugoslavo, è il primo studio pubblicato sulle vittime di nazionalità italiana in fiume ed intorni. Trovo particolarmente bello che ci sia perché pare che adesso sia aperto un corso nuovo di studi a Belgrado, in Serbia, dove di questo argomento si potrà parlare scartabellando archivi che sono stati segreti fino ad oggi. Io purtroppo ho il problema enorme che ho difficoltà con la lingua locale, nonostante mi sia spesso impegnato per provare ma è di una difficoltà pazzesca, io non devo essere neanche troppo portato, però all'Università di Belgrado e anche a Ljubljana si possono fare adesso studi molto belli. Ultima parte l'esodo, questa fotografia è la più famosa dell'esodo, vi dico semplicemente questa cosa sulla spersonalizzazione, solo questa cosa. Guardate questa bambina meravigliosa, sulla sua borsettina non c'è scritto per esempio Maria Rossi o Giuseppina Antonelli, c'è scritto Esule Giuliana, numero. Qui da noi furono trattati così, c'è un episodio famosissimo di un treno di esuli che andava ad Ancona, alla stazione di Bologna, non furono fatti nemmeno scendere dal treno, si diceva che loro erano fascisti, si diceva che loro erano scappati da un posto in cui si stava meglio, si diceva che loro non avevano diritto nemmeno alla nostra acqua e soprattutto si diceva che non erano italiani. Un ragazzo l'altro giorno mi ha chiesto se Giuliana non fosse il nome, no, Giuliana non è il nome, Giuliana vuol dire di quei posti là, della Venezia Giulia. Vedete lì, centro di raccolta di profughi Giuliani e Dalmati, non vi ricorda qualche centro di raccolta molto famoso? Ogni anno, adesso sta finendo la stagione del grande freddo, quando il Mediterraneo si placa, il pianerottolo del nostro condominio si chiama Lampedusa, lì ci sono i centri di raccolta, non sono tanto diversi, c'è bisogno che il mare si plachi dopo queste burrasche di questo tempo, ma fra venti giorni con l'equinozio il mare comincerà a guardarci come ci guarda il mare nostrum, unico inimitabile al mondo e tutti verranno a cercare di fermarsi un attimo sul pianerottolo nei centri di raccolta, un attimo solo. Questa roba qui è di 70 anni fa, se qualcuno di voi andrà a Lampedusa e va a vedere un centro di raccolta non è tanto migliorato. In tutta l'Italia, anche a Busto Arsizio c'è un quartiere Giuliano Dalmata, in tutta l'Italia i Giuliani e i Dalmati hanno cercato di rimanere italiani, con tutti i rischi che questo ha comportato. Vi dico l'ultimo trucchetto, vi faccio vedere questa slide finale perché c'è la lupa di Roma presa a Pola, che oggi i croati chiamano Pula, e vorrei dirvi questa cosa a concludere, proprio veramente a concludere. È difficile rimanere italiani quando tu sei per l'italiano un elemento di imbarazzo. I profughi Giuliano Dalmati, indipendentemente dalle colpe individuali, indipendentemente dalle colpe individuali, sono imbarazzanti per il nostro paese. Imbarazzanti perché la teoria è quella del mio papà. Vi ricordate che vi ho parlato del mio papà? Il mio papà ha detto con regolarità, lascia stare quelli lì, sono profughi, e mio papà era un uomo per bene, figuratevi quelli che non erano uomini per bene. Aveva quindi un atteggiamento decisamente negazionista rispetto a questa situazione. L'Italia è in tanti posti Giuliano Dalmata. Domenica scorsa a Busto c'è stata questa manifestazione del giorno del ricordo con una messa, c'è una preghiera scritta dal Monsignor Santin nel 59 sul martire delle foibe, preghiera che è diventata di moda adesso perché solo da pochi anni c'è il giorno del ritorno. Avete visto di che anno è la legge? Del 2004. Vuol dire che prima non c'erano i termini condivisi per fare questa operazione. E il problema non è il socialismo, è un falso problema, sono le tensioni ideologiche fra persone. Questi non erano tutti fascisti, quelli non erano tutti assassini. Eppure per anni la contrapposizione è stata fatta. L'altro giorno un collega mi ha detto che il giorno del ricordo è stato inventato solo ed esclusivamente per parlare un po' meno degli ebrei. Non ho reagito brutalmente, ho lasciato perdere. Cerco di fare questo tipo di ragionamento con molta tranquillità partendo da quello che ho studiato, ben sapendo che io sul piano personale sono un uomo di sinistra. Vorrei che fosse chiaro questa parte qui. Perché tocca alla nostra parte politica recuperare quello che in qualche modo le ideologie hanno violentato. E questo va recuperato. Un mio amico, anche egli nato, venuto su a pane e bella ciao, lì ha scritto, lo troverete se volete leggerlo quando andate a firmare, qualche volta la verità è dolorosa. Bisogna prenderla, masticarla, digerirla, sopportarne le conseguenze e cominciare vita nuova perché gli uomini non devono finire nella foiba o non devono raccogliere le briciole come i cani, indipendentemente dall'appartenenza politica che essi manifestano. Le colpe sono molto, molto, molto significative. Roma ha un bel quartiere Giuliano Dalmata, ogni anno spaccano il monumento alle foibe perché è di moda, però è una cosa così. C'è qualche domanda? Io sono in fondo. Siete tranquille? Si capiva? Impido. Deo grazie. Grazie.